Autocarrozzeria Vito Paglialunga a Nardò è la giusta soluzione per la tua auto. Riparazione parabrezza, autograndinate, particolari in plastica, piccole ammaccature senza l'uso di verniciatura. Autocarrozzeria Vito Paglialunga e associato APAS a Nardò in via San Severino. E lo facciamo con un concetto che aggiunge la bellezza dell'adversità alle altre forme di bellezza che questa catedrale può mandare. Questa armonia di bellezza credo che già da sola costituisca un himno, un canto di note. E' quello che ci propone Vito Paglialunga rappresentare le relazioni, rendere grazie. Chiaro che il rendimento di grazie è quello che è per eccellenza, è quello che si realizza nell'Eccaristia e noi abbiamo generato una solente Eccaristia come era disposto per dire grazie a Dio di quello che caratterizza questa chiesa diocesata che da questa catedrale viene espressa, viene significata. Anche per cercare come dire gli indirizzi del cammino che ci attendono. Ma questa sera vogliamo concludere con questo momento che, come dire, accarezzando i sentimenti aiuta un po' a gustare questa armonia di bellezza che qua dentro acquista in senso significato particolare. Io ringrazio l'orchestra simonica di Dostiva di Legge che ha consentito di realizzare questo evento. Ringrazio l'orchestra e la sua interezza, ringrazio i simboli professori che fanno parte di questa compagine. Ringrazio l'amministrazione provinciale provinciale che ci ha messo a disposizione questo evento che è sollecitato dalla Comune di Dandò che in modo particolare è il proprio obbligo di dirlo e ringrazio per l'interessamento anche del consigliere provinciale Giovanni Siciliano. Ringrazio in modo particolare è il maestro, il maestro Marcello Vanni, che dirige questa orchestra e che con la sua attenzia, con la sua direzione, ci consentirà questa sera di gustare due brani particolarmente interessanti, particolarmente legge, come il canto del signor Igor Stravisti e la suite dallo schiaccianoci delle celebre Giaiposchi. Ma prima di dare corso al programma è così consentire di rispettere due parole per presentare l'orchestra che non aveva il sogno di presentazioni ma solitamente si fa, e anche per presentare il maestro. L'orchestra sinfonica di Coschipa è nata nel 1977, fondata su impulso di Carlo Vitale, che la diretta fino al 1988, successivamente ha avuto come direttori stati, Carlo Pragnese, poi Nicola Abassavale, Marcello Rota, Elisabetta Maschio, Francesco Mizzioni, Carlo Vanniessi, Massimo Quarta, Filippo Zidante e per ultimo Marcello Vanni. E' stata anche diretta da prestigiosi direttori ospiti, partito ma annualmente dalla stagione litica di tradizione della provincia di Lecce, che svolge l'intensa attività sinfonica e litica sia del Salento che della Regione Emilia. Il maestro Marcello Vanni, compositore e direttore d'orchestra romano, dalla fine degli anni 70 ha ospite regolare delle principali istituzioni musicali milagiane e dei più importanti teatri e litigi internazionali. Ha composto diverse opere e litigie, nel 1994 è nominato direttore artistico dell'Orchestra dei Comeriggi Musicali di Lama e quasi contemporaneamente direttore musicale dell'Opera di Monda. Nel settembre del 1997 assume la carica di direttore musicale dell'Opera dell'Opera dell'Orchestra di Armonica di Inza. Dal 1999 al 2004 è direttore artistico dell'Accademia di Armonica Romana. Nell'autunno 2000 lascia l'Opera di Inza per rivolgere il posto di consulente artistico al Teatro San Carlo di Napoli che mantiene per due stagioni. Nel 2003 è stato nominato un accademico di Santa Cecilia. Dal 2007 al 2009 ha ripreso la direzione artistica dell'Accademia di Armonica Romana. Dal 2008 al 2012 è stato direttore artistico e principale della Fondazione Indio Filoschiva di Lecce. Buonasera. Grazie. 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 Grazie.